Ha lottato 40 giorni contro il covid, quasi un mese in terapia intensiva al cardarele di Campobasso, ma nelle ultime ore un ulteriore peggioramento delle sue condizioni, disperate. La giovane 36 anni di Guglionesi non ce l'ha fatta, questa mattina il suo cuore si è fermato per sempre, ora solo dolore, quello della famiglia, lascia tre figli, due sono minorenni, lo strazio della comunità di Guglionesi che piange ancora una volta. Sono 11 le vittime del covid nel centro Basso Molisano, per la ragazza un quadro clinico da subito molto serio, a quanto pare un soggetto fragile con problemi di asma, non era vaccinata, contagiata dal virus in quest'ultima ondata di covid che ha avvolto Guglionesi, circa 50 casi, quasi tutti giovani, quasi tutti non vaccinati come la ragazza di 36 anni. La giovane mamma era stata ricoverata il 17 luglio, ma già dieci giorni dopo le sue condizioni erano peggiorate, sempre più gravi, si sperava nel miracolo. Questa mattina il risveglio peggiore, il sindaco Mario Bellotti provato dalla notizia manifesta a nome dell'intera amministrazione tutta la vicinanza alla famiglia, sia morale che materiale, continueremo a detto a dare attenzione ai bambini, non li lasceremo soli.